nella vita bisogna decidere perché ogni giorno ci sono delle sfide occorrono soluzioni ma non sempre è facile decidere perché non siamo preparati oppure abbiamo dei dubbi beh esiste una via d'uscita per decidere senza stressarsi in modo da affrontare la vita non dico spensieratamente ma senza l'inutile peso dello stress questo sì è possibile ti voglio dare alcune indicazioni pratiche le nostre decisioni determinano i risultati che raggiungiamo questo è un punto essenziale da chiarire non sono le circostanze l'ambiente il destino la fortuna l'oroscopo che determinano i nostri risultati ti do una dimostrazione molto semplice in questo periodo si parla di crisi si dice che non c'è lavoro lo si dice da dieci anni da vent'anni con particolare intensità ebbene negli ultimi dieci vent'anni in italia sono stati creati qualcosa come 4 o 5 milioni di posti di lavoro regolari mi riferisco agli extracomunitari che sono arrivati che si sono ingegnati hanno preso delle decisioni e hanno trovato il lavoro quindi nello stesso ambiente con la stessa classe politica ci sono persone che riescono a raggiungere i risultati e altre persone che non li raggiungono non è questione di ambiente è questione di scelte individuali se facciamo delle scelte sbagliate arriviamo a risultati sbagliati dovrebbe essere evidente se fai una scelta sbagliata il risultato è sbagliato se prendi la strada sbagliata non arrivi a destinazione dovrebbe essere evidente ma a volte lo capiamo soltanto nel momento in cui vediamo i risultati quante volte ci danno dei buoni consigli quante volte i valori della tradizione dicono di comportarsi in un certo modo ma non lo facciamo per trasgressione perché ci piace un idolo della musica che si comporta in un altro modo apparentemente fa parte del suo personaggio per vendere i dischi quindi sappiamo quali sono i risultati sbagliati sappiamo quali sono le scelte sbagliate ma nonostante questo insistiamo per fare scelte sbagliate sperando che non so arrivi l'ambiente o l'oroscopo o il colpo di fortuna a sistemare le cose non funziona così se facciamo delle scelte sbagliate arriviamo a risultati sbagliati dovrebbe essere evidente ma a volte lo capiamo soltanto nel momento in cui vediamo i risultati e a quel punto è troppo tardi per lo stesso motivo se prendiamo delle decisioni giuste otteniamo risultati positivi e sani se frequentiamo gente per bene non ci troviamo in situazioni equivoche stressanti dove si fanno doppi giochi dove ci sono dei pericoli se prendiamo delle decisioni giuste se stiamo dalla parte dei valori dalla parte del sole otteniamo risultati positivi e sani ma a volte prendiamo decisioni che ci sembrano giuste noi siamo in buona fede stiamo con delle persone per bene stiamo applicando le regole stiamo eseguendo quello che ci hanno insegnato siamo in buona fede e non sappiamo di ignorare punti deboli che si riveleranno fatali un giorno contro di noi abbiamo fiducia in un partito abbiamo fiducia in quello che ci hanno insegnato a scuola abbiamo fiducia nella classe politica abbiamo fiducia nella pensione e poi un giorno scopriamo che le persone in cui avevamo riposto la nostra fiducia non sono leali non sono più dalla nostra parte anzi hanno tramato qualcosa contro di noi che cosa si può fare in quel caso noi siamo stati in buona fede non sapevamo di prendere delle decisioni sbagliate delle decisioni fatali come decidere allora senza stressarsi chiarito che non dobbiamo frequentare delle persone equivoche e delle situazioni equivoche e mettendo in conto il fatto che potremmo fare una valutazione sbagliata come possiamo decidere senza stressarci senza vivere per decenni con il dubbio che magari scopriremo più avanti di aver fatto un errore fatale come decidere come sapere che non stiamo ignorando qualche passo falso che capiremmo troppo tardi come evitare questo stress che potrebbe portarci in confusione e se siamo confusi facciamo altri sbagli come uscire da tutto ciò io ti dico che per decidere senza stressarti devi mettere al primo posto i valori etici e su quei valori costruisci la tua esistenza questa è la soluzione valori etici sono quelli fondati su amore verità e bellezza e tutto quello che ne discende tu metti al primo posto i valori etici e su quei valori costruisci la tua esistenza magari farai delle scelte impopolari al momento perché se parli di amore nel posto di lavoro ti guardano come un ingenuo se parli di verità nel mondo cinico di oggi appari come uno sproveduto se parli di bellezza in un'epoca in cui viene premiata la trasgressione volgare ti considerano proprio incapace di vivere quindi se ti ispiri ai valori etici di amore verità e bellezza magari farai scelte impopolari al momento ma sulla distanza i valori etici di una vita sana ti ricompenseranno ti sentirai a posto perché tu sarai stato dalla parte di amore verità e bellezza avevi scelto in base a come tu avevi capito amore verità e bellezza e saprai di aver fatto il tuo meglio questo è il nucleo essenziale della questione perché ci stressiamo quando decidiamo perché vogliamo fare il meglio ci stressiamo perché non siamo sicuri di fare il meglio e allora per essere sicuro di fare il meglio metti al primo posto i valori etici amore verità e bellezza e su quei valori costruisci la tua esistenza così sulla distanza ti sentirai a posto e saprai di aver fatto il tuo meglio non puoi sbagliare se vivi in modo etico non avrai nulla da rimproverarti e nel corso degli anni sapendo che ti sei sempre ispirato ad amore verità e bellezza sai come procedere magari al momento le tue scelte sono impopolari qualcuno ride di te perché parli di amore di verità e di bellezza ma sulla distanza i valori etici di una vita sana ti ricompenseranno grazie a tutti